Ciao a tutti, come superare un abbandono affettivo? Ovviamente ogni volta che viviamo un abbandono affettivo entriamo in uno stato di emozioni negative, questo succede abbastanza spesso. La prima cosa si vive una sorta di negazione, no? Cioè si pensa che non sia quasi vero, poi può scattare la rabbia, talvolta scatta il senso di colpa, perché ci attribuiamo delle responsabilità e poi la tristezza. Ma poi ci sono anche i rammarichi, i rammarichi per pentimento, per avere, diciamo, pentirsi di che cosa? O di aver fatto delle cose che non avremmo dovuto fare, quindi di fatto un rimorso, oppure per rimpianti, per non aver fatto delle cose che avremmo dovuto fare. Quindi la tristezza, il rammarico, porta, diciamo, uno stato negativo. Ora, è bello viversi queste emozioni, che se non le alimentiamo? È bello perché? Perché se le viviamo, le superiamo. Cioè, nel senso, e non andiamo ad alimentarle con la nostra rimuginare, perché alla fine è il rimuginare quello che rovina tutto. Se noi non andiamo a rimuginare, arriviamo anche molto rapidamente a superare queste emozioni e a vivere l'accettazione. L'accettazione che cos'è? È accettare la situazione, accettare la perdita, rendersi conto che la persona, come dire, che ci ha lasciato, ha fatto una sua scelta e avrà, diciamo, le sue, tra virgolette, conseguenze, e noi andiamo per la nostra strada senza, diciamo, emozioni più negative, avendo superato i rimpianti, avendo superato i rimorsi, i sensi di colpa, la rabbia e troveremo rapidamente una situazione nuova. Nel momento in cui vivremo una situazione nuova, magari più appagante, ci dimenticheremo, come dire, non cognitivamente, ma questa situazione non ci toccherà poi praticamente più di tanto, anzi, quasi nulla, e saremmo diventati delle persone migliori. L'unica cosa che dobbiamo evitare di fare è di rimuginare. E ci voleva anche lo starnuto. Iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco, attiva la campanella, così riceverai la notifica del mio video. Ciao a tutti!